Che strana la storia di Berlusconi, non è mai riuscita a umiliarlo la sinistra e ci è riuscita ieri la destra. A proposito, che cazzo di fine ha fatto la sinistra? Dov'è stata tutto questo tempo? Che scemo, era in piazza a fermare la guerra? Roma si timpe la pace davanti all'ambasciata russa. Dunque fammi capire, sono mesi che Letta briga per mandare sempre più armi e ora fa una manifestazione per la pace sotto l'ambasciata russa con le bandiere ucraine. Dai Letta, così è una provocazione. Sta a vedere che la terza guerra mondiale la fa scoppiare il PD con una manifestazione per la pace. Tra l'altro, dopo anni in cui il PD non organizzava una minchia, Letta ha organizzato due sit-in lo stesso giorno nella stessa città sotto due ambasciate diverse per motivi diversi. Iran, manifestazione PD davanti all'ambasciata. A Roma un sit-in alle 17.30, l'altro alle 18.30. Non facevi nemmeno in tempo a sederti col culo per terra per rompere i maroni agli atollà che già dovevi schizzare dall'altra parte della città e sederti col culo per terra per menarla ai russi. Regia, ce l'abbiamo le foto delle manifestazioni, Massimo? Le stiamo cercando, Mauri, ma non le trovo. No, ma è perché in effetti oggi non ho visto niente sui giornali. Ma ci saranno, Massimo? Figura se non ci sono due manifestazioni del PD, magari qualcuno con l'iPhone, una foto della fatta. Facciamo così. Il tempo di trovare le foto e ci rivediamo subito dopo con Andrea Zaloni e la Silvano Bertiore Betti.